Uno sguardo sulla storia economica del nostro territorio con gli occhi attenti e interessati degli studenti degli istituti superiori. Il progetto Museo Web a Scuola, promosso dalla Camera di Commercio con il finanziamento della Fondazione Cariplo e la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale e del Centro per la Cultura d'Impresa, ha visto oggi un passaggio importante con la presentazione dei primi lavori realizzati dalle classi delle scuole superiori della provincia di Varese. Analisi ed approfondimenti con testi, documenti e immagini che saranno presto consultabili con un semplice clic entrando in quello che, all'indirizzo www.museoweb.it, è il primo museo online italiano tutto dedicato a un sistema economico territoriale. Ora il Museo Web della Camera di Commercio può contare anche su di un'apposita sezione con i lavori realizzati, nell'anno scolastico ormai al termine, dalle classi di alcuni istituti superiori della provincia di Varese, grazie al supporto degli storici del Centro per la Cultura d'Impresa che sono entrati in classe e hanno lavorato con docenti e alunni. Le scuole coinvolte nel progetto presentato oggi sono state l'Isis Newton di Varese, il liceo Curi di Tradate e la sede di Laveno Monbello del liceo scientifico Sereni.